le accuse contro di me una valanga di fango le prime affermazioni del capo dei capi della mafia che si ritrova nell'aula bunker del lucciardone per il maximo processo alla mafia dove esser passato dalle campagne di caccamo dove era la di tante presidiare davanti alla corte per la sua difesa per michele greco il papa è l'ora di dipendersi come un bravo uomo rimasto intrappolato in un disegno scuro nel quale non c'entra nulla ecco che tocca a lui ad essere interrogato e quando fa il suo ingresso in aula la sua entrata è accompagnata da un rigoroso e rispettoso silenzio lo stesso che si verificò per buscetta era già quel silenzio una conferma della considerazione che godeva dai membri di cosa nostra chiusi nelle gabbie era palese che lo ritenevano ancora un capo cosa che lui cercherà di respingere negli interrogatori dando di sé tutt'altra figura figura di un uomo che non era un mafioso che aveva avuto amicizie illussi con cardinali procuratori della repubblica e dove il suo fondo pavarella era un posto dove lui praticava la sua amata caccia insieme agli amici e soprattutto parlava di fede e che non conosceva la parola odio sedendosi di fronte alla corte sembra un tipo calmo e tranquillo che risponde alle domande del giudice giordano con molta discrezione cerca di far capire subito che non sa perché si ritrovi tirato nel mezzo di quel processo dicendo subito alla corte le dico una parola la violenza non fa parte della mia dignità gliela ripeto la violenza non fa parte della mia dignità se anziché chiamarmi michele greco mi chiamassi ad esempio michele rocca pennuzza tanto per dire non mi ritroverei qui è tutta una storia basata sulle lettere anonime e siccome il mio nome faceva in un certo momento cartellone e allora si costruì questa montagna un mare di calugne sulla mia famiglia secondo il suo dire il nome di greco viene fuori al processo di camanzaro per via di un suo cugino salvatore greco che fa accusato di associazione mafiosa precisando è qui che nasce la mia storia signor presidente perché tra gli anni 60 e 70 questo nome greco era sempre in prima pagina tutti i giorni sul giornale in prima pagina greco 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 ora nell'ottantadue presero il sottoscritto e fecero il papa buscetta bisognerebbero chiederlo a lui chi gliel'ha ordinato perché buscetta un portavoce signor presidente è un portavoce bisogna chiederlo a lui chi gliel'ha ordinato di accusare a questo signore e bisogna chiederlo anche all'altro a contorno non voglio fare nessun pensiero mi accusano e io rispondo per le accuse e dimostro a questa corte che ciò di cui mi accusano è falso questo è il mio compito dopodiché ascolta le dichiarazioni dei venti di contorno che fu il primo a parlare di michele greco a ninni cassara e poi di buscetta entrambi dichiarano che sono stati spesso alla tenuta favarella la quale era diventata il quartier generale di cosa nostra in quegli anni contorno sapeva descriverla molto bene la tenuta c'era stato moltissime volte per accompagnare bontate sarò ricco buono e gigino vizzuto ci aveva mangiato e anche sparato nel campo di tira al volo e che prima che diventasse luogo scelto per le riunioni della cupola era debita anche a raffineria di droga il papa cerca subito di demolire il collaboratore dicendo contorno mai conosciuto non ci ho mai avuto a che fare non l'ho mai visto l'ho visto qui a questo personaggio simpatico per la sua morte riferitosi a bontate provai un forte dispiacere lo conoscevo da ragazzino era molto gentile educato e aveva anche una certa classe nel conversare andai al suo funerale non lo vedi mai insieme all'ex vaccaro figlio di sasaga prara riferendosi a contorno oggi il calugnatore ex vaccaro ed ex criminale parla di stefano come se vivevano assieme purtroppo stefano è morto e i calugnatori dicono quello che gli è utile a comodo quando andavo a scuola all'elementare gli insegnanti mi chiedevano cosa fa papà rispondevo l'agricoltore quando chiederanno ai figli di contorno risponderanno il calugnatore su tommaso buscetta invece non ha molto da ribadire ai giudici dice soltanto di non averlo mai visto però non esclude che possa averlo incontrato nella tenuta ma che se c'è venuto non è per partecipare a fantomatiche riunioni con altri mafiosi don masino però ha sempre sostenuto il contrario il feudo era anche considerato un punto di riferimento per tutti gli uomini d'onore che venivano a discutere faccende mafiosi di ogni tipo e rivelerà anche che il papa era un componente della commissione provinciale già nel 1977 come capomandamento di ciagulli e a quella data la commissione era composto da antonino salamone salvatore rina gadano badalamenti stefano bontate rosario di maggio salvatore scaglione giuseppe galò rosario riccobono e michele greco il capo era badalamenti ma badalamenti questo messo del tutto dall'organizzazione e michele greco preso il suo posto disse buscetta dalla sua scialpa personalità era la persona più adatta a diventare capo della commissione in modo da non ostacolare le mire di rina a sostenere che la favarella dei greco sia stata trasformata in una sorta di fortino di cosa nostra lo dice anche callogero ganci ex killer dei corleonesi poi diventato collaboratore di giustizia secondo ganci figlio del più noto raffaele il baglio del papa era un abituale luogo di incontri per mafiosi tant'è che in tanti potevano accedervi come quando volevano perché possedevano le chiavi michele greco alle strette e davanti a tutti quei pentiti alle loro dichiarazioni dopo il suo interrogatorio alla brillante idea di scrivere un memoriale dove il padrino racconta tutta la sua vita parla della sua famiglia episodi dell'infanzia delle relazioni della quale a suo avviso si deturrebbe non solo che non è mai stato mafioso ma anche che non ne avrebbe avuto alcun bisogno ricco come era di denaro prestigio e onore un memoriale di circa 100 pagine scritta appena nella sua detenzione dove sono presenti innumerevoli riferimenti al vangelo e alla bibbia dipingendosi come un uomo dedito al lavoro dei campi e ispirata alla fede di dio l'intenzione era di smentire chi lo accusa ma forse è troppo tardi i giochi sembrano ormai fatti la valanga di accuse stanno per stravolgerlo così michele greco il papa a quel punto decide di prendersi la scena finale al maxiprocesso perché un capo come lui non può rassegnarsi in silenzio e così prima che la corte si ritiri per la camera di consiglio chiede la parola io desidero fare un augurio vi auguro la pace signor presidente a tutti voi auguro la pace perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza e per il compito che vi aspetta la serenità è la base fondamentale per giudicare non sono parole mie sono parole di nostro signore che lo raccomando a musè quando devi giudicare che ci sia la massima serenità che è la base fondamentale e vi auguro ancora signor presidente che questa pace vi accompagnerà per il resto della vostra vita oltre questa occasione in quel contesto in quel preciso momento le sue parole sembrano assumere un significato diverso di un augurio dalla netta impressione di aver voluto rivolgere una velata intimidazione nei giudici la pace che augurato potrebbe essere quella eterna che la corte si guadagnerà qualora dovesse condannarlo la corte però non si fa intimidire anzi non crede che siano intimidazioni e così il 16 dicembre 1987 la corte di assise emette la sua sentenza contro la mafia condannando all'ergastolo tutti i capi dell'organizzazione michele greco rimane alla sbarra e sparisce dalle cronache fino al 1989 quando esce fuori il cosiddetto caso corvo dove delle lettere anonime arrivate alle alte cariche dello stato sostengono il giudice falcone abbia fatto tornare in italia il pentito contorno per fargli uccidere alcuni mafiosi cose che si rivelano rinfondate e anche il presunto corvo fu assolto il 25 gennaio 1991 finisce anche la latitanza del fratello del papa salvatore greco il senatore il quale si consegna l'autorità perché si ritrova all'ospedale in gravi condizioni fisiche il senatore era stato condannato al maxiprocesso a 18 anni ridotti poi assai in appello ma il mese successivo si verifica un clamoroso scivolone della magistratura l'11 febbraio 1991 la corte di cassazione dispone della scarcerazione di molti imputati del maxiprocesso per via della scadenza dei termini cautelari e tra questi c'è anche lui michele greco i termini cautelari erano scaduti in quanto i giudici non si erano avvalsi in appello della norma di escludere dai termini di custodia i giorni dedicate alle utenze e si trattava di quasi otto mesi quindi il papa poteva essere rimesso in libertà e tre giorni dopo il giorno di san valentino 14 febbraio del 91 presenta istanza di scarcerazione il 21 febbraio l'istanza accolta e il 27 febbraio 1991 michele greco il papa riempie la borsa e lascia il carcere del luciardone ad attenderlo la momia il figlio fotografi e giornalisti il papa è libero michele greco il capo dei capi è di nuovo in libertà solo per cinque giorni potrà stare a casa sua per poi doversi obbligatoriamente trasferirsi in un altro comune fuori da valermo e con meno di 10.000 abitanti e a sua scelta ma il giorno dopo altra buona notizia per il papa non deve più lasciare palermo perché parteciperà alle utenze del secondo grado di appello come il terzo giorno la brutta notizia per don michele è stata chiesta la conferma degli ergastoli viene messo il verdetto che non sono scaduti termini cautelari per tutti i scarcerati e il primo marzo 91 viene messo un nuovo mandato di cattura e ritornano tutti alla sbarra e lo stato riconquista una parte di credibilità michele greco il papa è di nuovo dentro il suo nome rifiorisce soltanto nel 1997 nel processo andreotti per poi rimanere nell'ombra fino al 2007 quando attacca lo stato denunciando le pessime condizioni a cui sono sottoposti gli oltreottantenni come lui dichiarando sono prigioniero a causa dell'ingiustizia degli anni 80 sono sepolto vivo e sono in carcere da 22 anni l'umidità della cella ha distrutto la mia salute e sono davvero malconcio sono innocente come è vero che esiste il sole il suo fisico deteriorato della malattia reso inoffensivo da una serie tergastoli il nome di michele greco viene scritto nell'album dei ricordi di cosa nostra il 13 febbraio 2012 quando muore all'età di 84 anni all'ospedale sandro pertini di roma al di là delle vicende recessuali michele greco il papa è diventato il capo dei capi di cosa nostra dipinto come un pupazzo di corlionesi ma un astuto uomo d'onore rimasto nell'ombra fino negli anni 80 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti